Saluto a tutti, a questo grande popolo oggi qui a Milano. Noi oggi come avviso pubblico partecipiamo come ogni anno a questa grande manifestazione, una giornata dell'impegno e della memoria delle vittime innocenti di mafia. Abbiamo voluto dare un nostro contributo come sempre ogni anno, quest'anno è a Milano, la Lombardia, una regione che attualmente è attraversata da un fenomeno mafioso internazionale, perché qui è concentrata tutta l'economia del paese, dell'Italia. Basti pensare che la Lombardia è il sesto posto come beni confiscati alla mafia, quindi una regione che va tenuta sotto controllo, un impegno di noi amministratori nella promozione della legalità su questi territori. Quindi siamo a Milano quest'anno per l'impegno e quindi della legalità. E anche la memoria per ricordare queste persone che si sono impegnati, il comune di Giovinazzo che ha la vicepresidenza nazionale dell'associazione Vissu Pubblico conferma il suo impegno. Sono qui anche con i ragazzi delle scuole e abbiamo voluto fortemente realizzare un percorso della legalità, chiamandolo i sogni diventano legalità. E questi ragazzi poi delle scuole di Giovinazzo sono qui presenti oggi a manifestare il loro impegno su questi temi. Grazie. Grazie. Grazie.